Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Vi avevo promesso che sarebbe uscito il secondo sul mio portafoglio di crypto Dopo un mese del precedente che potete trovare sempre qui sul canale Mi ho deciso di fare questo nuovo video proprio perché ho incrementato le mie posizioni Ed ho aumentato quelle che sono le crypto che ho sul mio Binance, sul mio wallet Diciamo così, nello specifico, allora andiamo a vedere Dogecoin aveva fatto una salita, io ci avevo messo 15€ quindi ho raddoppiato Sono arrivato a una trentina e 15€ l'ho preso e l'ho riconvertito dentro BNB Perché l'8 di maggio, quindi esattamente sabato, dovrebbe parlare Elon Musk al Saturday Night Live E c'è il rischio che possa scoppiare in senso positivo o negativo A me non mi piace rischiare troppo perché c'è troppa tensione attorno Quindi non lo so, secondo me cala, poi vedremo Tanto non do consigli finanziari ma appunto è una mia idea mentale questa E tutte le altre crypto che ho preso, allora da Polkadot è salita, ha un bel progetto dietro e continua a salire Oggi ho preso VeChain che anche Vett sta salendo E Ripple e Idem continua a salire Ada Cardano stessa situazione E Binance comunque è solida anche se oggi leggermente è negativo Ma comunque se andate a confrontarla col video precedente sta salendo Chainlink è quella che mi sta dando tra virgolette il risultato più positivo di tutte Poi ho deciso di puntare su PancakeSwap Cake E di acquistarla perché comunque PancakeSwap è diciamo uno degli exchange di altcoin Che secondo me continuerà a salire BitTorrent perché anche solo per il nome E questa, se arriva qualcun esperto che vede questo video me ne dirà di tutti colori Però anche solo per il nome merita tanto E mi sono letto il progetto e anche su di loro mi piace molto quello che dicono Matic o Polygon che dir si voglia perché è una cugina sostanzialmente di Ethereum Su cui ho messo 100€ e stanno salendo E Matic e Polygon Idem E stavo vedendo poi il grafico di Ethereum Che è andato diciamo così di nuovo a toccare quelli che sono i massimi Vediamo Sì è arrivato a dei livelli perché stiamo girando sul 3527 E qual è la situazione? Che fino qua non ci è mai arrivato Allora se andiamo a vederlo più da vicino Vediamo comunque che l'RSI e lo stocastico sono usciti Ma questo non vuol dire niente perché sono usciti anche in passato Quindi io al massimo mi aspetterei qualche altra candelina rossa per poi risalire Perché tendenzialmente la questione è rialzo Se andiamo a vedere un'altra cosa Aspettate un attimo Allora Se andiamo a vedere il transato A confronto tra Bitcoin, Ethereum e Dogecoin Abbiamo che la maggior parte delle transazioni soprattutto in questa ultima parte del 2021 Sta avvenendo in Ethereum Quindi sostanzialmente Bitcoin è cresciuto ma rimane più o meno stabile Il Dogecoin è relativamente piccolino E a me piace giocare su qualcosa di reale E se sull'Ethereum girano più soldi Allora perché non puntarci Il mio è comunque un piccolo wallet rispetto a molti altri Però comunque alzo perché Farò il video di aggiornamento a fine maggio Vediamo un po' come si muove poi la situazione E come va a finire Nel frattempo qui in parallelo Ho SafeMoon, Mellow Token e SafePlanetEarth E questa decina diciamo di euro che ci avevo messo Il Mellow sta in perdita SafeMoon non si capisce E SafePlanetEarth item E stiamo a vedere quello che succederà Se guardiamo SafeMoon sta riprendendo a salire In particolare negli ultimi 7 giorni Vediamo che ha ripreso questo trend rialzista Poi ripeto Tutto è possibile Bisogna vedere Ecco è chiaro che se riesce ad arrivare a un dollaro Qui si fa bingo anche con qualche spicciolo La differenza però qual è? Che SafeMoon Praticamente ogni volta che qualcuno vende Mi sembra il 10% di quello che vende viene ridistribuito Quindi io prima avevo solo 2 milioni Piano piano mi sta aumentando Adesso 2 milioni e 520 mila Vediamo Vediamo quello che succede Questo era solo un video update Spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere se avete dubbi o domande Qui sotto nei commenti Spero che vi sia piaciuto